Signori e signori, ecco voi siamo davanti al passaggio a livello di Contigliano, quello della stazione. Grazie per la visione! Questa è la stazione di Contigliano, con due binari. Qua si fermano due macchine, tre e sette, due macchine in moto. Speriamo che arrivi presto il treno. Ora il semaquono è rosso. Le sbagli sono chiuse. Questo è il binario 1, questo è il binario doppio. Non riesco a vedere il semaforo giù perché vedo che andate là. Il binario 198.732. Non so se è la mia parte da Pescara o sul Mora. Ecco il treno, infatti. Ok. 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 Ok benARR Ok. そうですね. Ecco il treno che si è fermato la stazione di Cotigliano, sono calate due persone, anzi vedo, due persone sono calate, anzi un po' di più, vabbè, ora vedremo attenti quanti ne caricano. Il treno sta per partire, questo video adesso sarà dedicato messo su youtube, ciao!